Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca. Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale tra due auto avvenuto ad Isola Vicentina. I vigili del fuoco di Schio hanno messo di sicurezza i mezzi, mentre il conducente di una delle due vetture, una Peugeot 305, seppur ferito, è riuscito a venire fuori dall'auto, rovesciata, finita fuori strada. L'uomo è stato preso in cura dal personale del 118 e portato quindi all'ospedale, illeso l'autista dell'altra auto. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Alessandro Casu, il carabiniere che il 5 febbraio del 2015 fu accoltellato da uno spacciatore durante un servizio antidroga in zona stanga, potrebbe essere il nuovo assessore comunale alla sicurezza di Padova, qualora alle prossime amministrative venisse rieletto l'ex sindaco di Padova, appunto Massimo Bitonci. È stato proprio quest'ultimo a presentare la candidatura del militare congedato per cause di servizio, proprio a seguito delle lesioni permanenti riportate in quella aggressione nella sua lista civica. Bitonci ha precisato di voler impiegare il militare nel settore della sicurezza, non escludendo l'ipotesi dell'assessorato. C'è una campagna elettorale, ognuno darà il suo contributo e quindi nulla è escluso. Nella sede di Selvazzano, dentro Lanci Veneto, insieme alla regione del Veneto, Lupi, i comuni della Marca e della provincia di Treviso, presentano alla stampa e ai sindaci dei comuni veneti la nuova piattaforma informatica per la gestione delle politiche e dei fondi comunitari europei. Il progetto è frutto del patto di coordinamento avviato l'esate scorsa dalle cinque realtà del territorio regionale, per rendere maggiormente efficace e strategica la partecipazione dei comuni e di altri enti locali ai vari bandi europei per l'accesso ai fondi dell'Unione Europea. Con l'occasione verrà presentato uno stato dell'arte nella gestione attuale dei fondi dell'Unione Europea in Veneto e interverranno Maria Rosa Pavanello, presidente dell'Anci Veneto, Gianluca Folcolin, vicepresidente della regione del Veneto, Maurizio Gasparin, direttore regionale dell'area programmazione e sviluppo strategico, Carlo Rapicavoli, direttore provincia di Treviso. Andiamo a Monseri, c'è una grande scritta visibile dall'alto fatta di corpi e di cartoncini a comporre un cuore rosso e la parola parco. Si è conclusa così in un campo dell'area di Ca' Barbaro la manifestazione in marcia per salvare il Parco Colli, organizzata dal coordinamento associazioni ambientaliste del Parco Colli. Quasi 2.000 persone che alle 15.30 di ieri pomeriggio si sono radunate di fronte alla chiesa della frazione di Marendola provenienti da ogni parte della provincia padovana e con mezzi differenti, chi in auto, chi in bici, chi a piedi e chi a cavallo, chi addirittura solvolando la zona in deltaplano o su un altro mezzo ultraleggero. Tantissime le associazioni ricevute dal coordinamento e non soltanto da parte delle associazioni ambientaliste hanno infatti preso parte all'evento moltissimi semplici cittadini, ma anche amministratori del territorio dei Colli Euganei. Uno dei punti di forza del comprensorio Tofana Freccia del Cielo a Cortina Rappezzo è la qualità dell'alto livello delle piste, particolarmente apprezzate dagli sciatori che vogliono confrontarsi con discese e mozzafiato in un contesto naturale davvero unico. Tracciati impegnativi tra i più belli e ambiziosi delle Dolomiti, come quello che ha reso celebre e appunto nel mondo dello sci mondiale, la famosa pista forcella rossa che scende rapidamente tra costoni di roccia dolomitica con un panorama da 10 lode lungo la conca ampezzana lunga 4,5 km con un dislivello di circa 1018 metri e una pendenza massima del 72%. Forcella rossa è la classica pista nera da affrontare solo se si è veramente uno sciatore esperto. Torniamo alla cronaca. Un 67enne si è tolto la vita in queste ore nella propria abitazione a Legnaro in provincia di Padova. L'uomo si è sparato con un'arma legalmente detenuta per tiro sportivo. A trovarlo esanime è stato il fratello sul posto di sanitario del suo M118 e i carabinieri che accanto al corpo hanno rinvenuto un biglietto di addio dove l'uomo faceva riferimento proprio al proprio stato di salute precario. Aveva appena terminato il lungo turno lavorativo quando un uomo praticamente le ha sottratto il computer portatile. La vittima è una dipendente del locale Ruggi Ice Cream Bubble Tea di via Umberto I a Padova e quindi in pieno centro storico. Il ladro ha sottratto il pc custodito nel negozio ed è fuggito poi verso Prato della Valle sul posto la polizia che sta indagando sull'accaduto. Otto condanne e a cinque mesi. Questa è la sentenza del Tribunale di Rovigo al processo che vedeva imputati 36 dipendenti della sede di Rovigo della Regione Veneto accusati di assenteismo durante il proprio turno di lavoro. Il gruppo dei dipendenti regionali era finito a processo con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Acqua blu dai rubinetti di casa. L'allarme è scattato a metà mattinata di oggi da alcune famiglie di Barbona, piccolo comune del Padovano che conta una popolazione di 600 abitanti. Immediatamente la società centro Veneto Servizi ha sospeso l'erogazione di via cautelativa scaricando le condotte e prelevato alcuni campioni di acqua per le analisi del caso. Anche il sindaco della località, Francesco Peotta, ha consigliato a tutti i suoi concittadini di non bere l'acqua fino a quando non saranno chiarite le ragioni di questa colorazione. Sembra comunque da escludere qualunque correlazione con l'inquinamento da FAS. Momenti di panico. Questa mattina un toro fuggito da un allevamento di Castelfranco Veneto è stato abbattuto dai carabinieri dopo una lunga fuga durata alcuni minuti. La presenza dell'animale libero che si è allontanato utilizzando in parte il tracciato di una statale ha determinato la decisione di chiudere l'arteria al traffico provocando rallentamenti alla circolazione. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco. E sono rimasti illesi due piloti di altrettanti parapendii finiti tra i rami di un albero. L'intervento del soccorso alpino della pedemontana del Grappa è servito a mettere in sicurezza i malcapitati. Il primo incidente si è verificato sul Monte Grappa dove un pilota è rimasto appeso tra i rami a 10 metri di altezza. L'uomo, un 28enne polaco, è riuscito poi a sganciarsi dai vincoli con la vela. Raggiunto dai soccorritori è stato assicurato da un tecnico risalito lungo il tronco e quindi calato. E torniamo alla cronaca. Continua a crescere il fatturato di Aspiag Service, la concessionaria Despar, Eurospar, Interspar Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nel 2016 ha raggiunto i 2,07 miliardi di euro con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. L'utile netto che sarà reso noto nelle prossime settimane è positivo. In crescita rispetto al 2015 e nel 2017 saranno utilizzati investimenti per 140 milioni di euro. In crescita anche il numero dei collaboratori che passano da 7.198 a 7.568. I punti vendita da 567 con 10 nuove aperture nel solo 2016. E torniamo a parlare di spettacolo. Ieri sera al Palageox di Padova ha ospitato una delle tappe europee dell'artista americana Messi Gray, la cantante di colore, ha intonato i suoi grandi successi soul con il pubblico presente. Molti dialoghi proprio con il pubblico intervenuto e lei Messi supportata da una band che ha saputo incantare con le proprie sonorità anni 70 il pubblico presente. Chiudiamo qui la nostra pagina di informazione, ci diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Buona visione dei nostri programmi. Grazie a tutti i nostri programmi.